Ehi, satanasso! Vuoi sentire una barzelletta? Non voglio sentire un bel niente! Cosa c'è di peggio che trovare un verme nella propria mela? Trovare metà verme nella propria mela! L'hai capita? Significherebbe che hai mangiato l'altra metà del verme, capisci? Perché ce n'è solo metà dentro, perché hai mangiato l'altra metà! Sì, l'ho capita! Grazie! Sai cosa c'è di peggio che trovare un verme nella propria mela? Cosa? Cadere in una fogna! Ho appena visto un sorriso! Oh no, sono certo di no! E poi la banana dice Giovedì! Ma che deliziosissima sorpresa! Lo sai, Caped, non sei così male dopo tutto! Grazie! Ma tu non indossi il maglione! Oh, sì che lo indosso! Oh no, invece no! Hai ragione, Satanasso! Non indossa il maglione! Ma tu sei! Ma qui ho avuta, non ti sei! Questa non indossi? Non ind bok! Non ind superstiti! Ma qui? Questa non ind нашем quadro! Questa non indossi! Wow no! Pu Alexaabsislina sa Wisよね! Tu sai cosa che è! Questa non indiesこ DC! Questa non indolla!